Le maestre ci hanno portato a visitare la via della Dolonia che hanno realizzato i ragazzi degli superiori di Agordo. Il percorso iniziava con una mappa dove c'erano le immagini delle nostre montagne. Sulla stessa inoltre c'era una colonna stratigrafica delle Dolomiti. Partiva dalle rocce più in basso, che erano le più antiche, alle più recenti in alto. Ci ha fatto vedere tutte le rocce che sono state posizionate lungo questa via, in modo da riprodurre la stratigrafia delle Dolomiti. Ci ha colpito il gesso perché era l'unico ad avere il piedistallo diverso. La pioggia ha fatto uscire l'acido al suo interno che ha aggiunito con il tempo il ferro del piedistallo. Abbiamo visto che c'erano dei pannelli infografici che rappresentavano le Dolomiti, posizionate in modo da far combaciare il loro profilo con la realtà.